Ricordi ancora, ed è che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora. L'attore. Ma che lavoro è l'attore? La verità assoluta? La credibilità del falso? La tua madre ti diceva sempre che dovevi portare gioia nel mondo. Io ci riesco solo così. La voce amica. Poco fa ho provato a uccidermi. Dimmi subito dove abiti. Non voglio che mandi ambulanze o polizia. Non voglio nessuno. No, 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 no. Io non chiamo nessuno. Corro io da te. Orlando, eccomi. Sono Fabio. Voce amica. Hai chiamato sperando che ti avrei aiutato a non farlo, giusto? Se no perché hai chiamato? Pensavo che fossi qui per questo. Siete tutti uguali. Arrivate fino al punto cruciale. Voi telefonate pensando che io vi salvi. Ma io sono qui anche per incitarvi. Quando vi manca il coraggio nell'attimo definitivo. Allora, che vuoi fare? Vuoi che lo faccio io per te? Sei sparato. Potresti lavorare con me. Così copriremo tutto il ritorale. La procedura la conosci. Hai visto che funziona, no? Tu sei vivo. Ci facciamo dare l'indirizzo e poi quando arriviamo ci guardiamo intorno e decidiamo se incitarvi o meno. Non sei tu che decide chi vive e chi muore. Non sei se vuoi. Grazie.